Io tengo un draio, una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata e fronterosa. Io tengo un draio, volevo offrirti pagandola anche a rate, no brillante, e quindi c'è carate. Ma tu voli va a pizza, a pizza, a pizza, la pommarola in goppa, la pommarola in goppa. Ma tu voli va a pizza, a pizza, a pizza, la pommarola in goppa, a pizza e niente più. Io te portai a 12 stanni meglio ristorante. Ma se mangia mentre il mare canta, io te portai entusiasmato da tutta sta parata. Ordinai, nucefala arrostuta. Ma tu voli va a pizza, a pizza, a pizza, la pommarola in goppa, la pommarola in goppa. Ma tu voli va a pizza, a pizza, a pizza, la pommarola in goppa, a pizza e niente più. E' un piacere di presentarvi i miei amici carissimi Giovanni e Maria. Loro hanno la pizzeria a San Contito Oltra. Loro ci hanno preparato la pizza. Questa pizza è mia. Venite a trovare Giovanni e Maria a San Contito Oltra. Amici, ho finito la pizza. E' davvero buonissimo. E mi raccomando, venite a trovarci a San Contito Oltra. Bene, vi salutiamo. Ciao. Ciao.